ciao anche da parte mia ma a questo punto il mio saluto è irrilevante non rilevante ininfluente non influente non cambia le cose mettiamoci d'accordo su buon mattino però perché anche cuanco oggi su facebook ha scritto buon mattino ma non si dice buon mattino ma perché devi augurare buon mattino grammaticalmente è giusto è il mattino buon mattino ma perché tu devi augurare buon mattino tu auguri buon mattino a una persona e vabbè magari lo guarda di mattina magari lo guarda di giorno magari lo guarda di sera magari lo guarda in piedi dormire ho capito però buon mattino il pomeriggio tu dici magari il pomeriggio lo incontro ancora non lo incontro solo di mattino e quindi buon mattino così poi al pomeriggio ma no ma non si dice ma perché devi dire buon mattino perché così guarda non farmi uscire dai gangheri non farmi uscire dai gangheri oggi ha imparato che cosa vuol dire ho appena pubblicato il video non farmi uscire dai gangheri e e e ho un motivo in più oggi da questa sera per essere autorizzato ad uscire dai gangheri però lascia stare paguri lascia stare i paguri ma chi sono i paguri sono gli amici dei gangheri ma cosa stai dicendo paguri cos'è non lascia stare i granchi perché sono gli amici dei gangheri ma che cosa stai dicendo pa pa gu ro vediamo un po è un animale è un animale il paguro io pensavo che fosse un tipo di macchina guarda ah è questo il paguro tu sei veramente molto esperto ma questo scherzo a parte devo proprio fare fare i complimenti devo farti i complimenti devo fare i complimenti a te devo farti i complimenti per le tue conoscenze per le tue conoscenze in fatto di animali allora stavo dicendo attenzione non farmi uscire dai gangheri che già sono agitato sono agitato questa sera perché e lascio stare i paguri e lascio stare i paguri va bene che cosa è successo questa sera lo vuoi dire tu lo vuoi dire tu che cosa mi è successo questa sera non abbiamo mangiato il gelato non abbiamo mangiato il gelato perché non abbiamo più soldi no scherzo è scherzo che cosa è successo che cosa ho preso oggi che cosa ho preso oggi non ti ricordi più ho preso la 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 mu la 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 mucchina ma che la ma sei scemo ha kg non si dice scemo la parolaccia persona parolaccia però cioè non la parola parolaccia una parola un po' volgare però proprio mi è uscita dal cuore questa parola ma se scemo la mezzola mucchina frei su felice oggi eh io non sono tanto felice mi prende in giro allora uno dei progetti che sono ancora in sospeso nella comunità mondiale parlo di youtube comunità mondiale di un italiano vero è quello relativo al codice della strada ho in mente una serie di video e ho già anche annunciato questa intenzione per adesso è un'intenzione vaga non meglio definita non precisa vaga quanto mi piace l'aggettivo vago il verbo vagare non voglio adesso divagare e non voglio parlare del verbo vagare dell'aggettivo vago altrimenti parlo per mezz'ora solo di queste parole di questo verbo di questo aggettivo del sostantivo la vaghezza non ne voglio parlare adesso è un'intenzione vaga che però ho già espresso ho già manifestato pubblicamente l'intenzione di realizzare dei video che possono servire a chi sta studiando per il superamento dell'esame di teoria della patente di guida moto e auto e possono servire comunque a tutti per arricchire il vocabolario personale e insomma oggi prepotentemente questo questa intenzione è ritornata in primo piano è ritornata in primo piano perché perché oggi sono andato al lago adesso prendo la cosa un po' alla alla larga prendo la cosa un po' alla lontana sono andato al lago al lago di seo e sono proprio andato nella nella città che si chiama come il lago sono andato a Iseo più o meno a caso sapevo che che esisteva un lago chiamato lago di seo sapevo che esisteva un comune chiamato Iseo e allora sono andato a Iseo fratello Google mi ha portato lì e ho parcheggiato ho parcheggiato la macchina ho parcheggiato la macchina in un in un posto ma riservato regolarmente ai parcheggi in un'area parcheggio e c'erano anche le strisce bianche le strisce bianche nei video spiegherò che le strisce in Italia e non solo in Italia perché poi le regole sono internazionali sempre di più le strisce bianche significa area a parcheggio non a pagamento non a pagamento le strisce blu sono le aree le aree di parcheggio a pagamento molto bene che fortuna ho trovato un parcheggio non a pagamento al ritorno adesso te la faccio breve te la faccio breve faccio breve a te questa cosa te la faccio breve sono tornato due ore dopo ho trovato la multa ho preso la multa dopo tanto tanto tempo non prendo mai le multe perché sono rispettoso cerco di essere rispettoso di del codice della strada di tutte di tutte le regole ho sbagliato ho sbagliato ma ho fatto tanti errori in una volta sola e poi c'è stato anche lo zampino di Giulia secondo me c'è stato lo zampino di Giulia ma mi prendo io la responsabilità non voglio scaricare la responsabilità su Giulia non voglio addossare verbo addossare addosso se io tiro qualcosa addosso a qualcuno è addosso quindi io non c'è più separazione c'è un contatto addosso che cosa che cosa hai addosso in questo caso vuol dire che cosa che quali vestiti ti sei messo che cosa hai addosso non starmi addosso non starmi questa è un'altra espressione non starmi attaccato ecco non starmi attaccato attaccata non starmi così vicino da essere da non esserci nessuna distanza fra di noi ecco quindi non voglio addossare non voglio buttare addosso a Giulia la colpa per questa cosa adesso ti spiego poi perché secondo me c'entra anche Giulia allora indirettamente perché ho preso la multa perché non ho come si dice non ho messo il disco orario e qua dovrò parlare anche del disco orario in questa serie di video sul codice della strada che cos'è il disco orario l'hai già capito probabilmente il disco orario è un oggetto che gli automobilisti devono esporre devono esporre in un posto visibile per indicare l'orario di arrivo in quell'area parcheggio perché in qualche zona la sosta è sì gratuita ma è limitata nel tempo non può superare un certo numero di minuti di ore io ho visto ho visto che quell'area parcheggio era era legata all'indicazione della era col disco orario ecco diciamo così si dice proprio così quell'area parcheggio era con il disco orario cioè era limitata la sosta era limitata a un certo numero di minuti o di ore ma ho fatto un errore proprio ho fatto un errore di distrazione ho fatto un errore distrazione e nei video sul codice della strada dovrò spiegare come si leggono i cartelli cioè dovrò spiegarlo a me stesso prima che agli altri sarà uno di quei video che faccio per me non per gli altri perché nel cartello nel cartello che io ho visto ho letto gli orari in cui era necessario esporre il disco orario cioè era necessario indicare l'orario di arrivo alla sinistra degli orari quindi a fianco degli orari possiamo dire c'era un simbolo c'era un simbolo che io ho interpretato nel significato opposto rispetto a quello giusto una follia ma sì sono un turista allora io sono un turista adesso oggi sono un turista era un turista quando sono andato al lago passato perché non sono al lago ma sono ancora un turista sono in giro e poi sono un artista e artista quando si vuole prendere in giro qualcuno si si dice artista e artista io sono un artista e gli artisti hanno la testa dove hanno la testa tra le nuvole ma sì sono in un altro mondo sono in un'altra dimensione non sono legati alla realtà pensano sempre alle loro cose gli artisti io sono un artista ma sì sono un artista e anche un turista il turista è distratto il turista vive in un mondo parallelo vive sospeso in una bolla in una bolla che lo porta di qua e di là i turisti i turisti che non hanno che non mettono radici lì dove stanno in quel momento e sono così distratti allora che cosa ho fatto io ho visto che a fianco dei numeri c'era il simbolo della croce il simbolo della croce indica è un simbolo religioso il simbolo della festa dei giorni festivi il simbolo della croce ti dice attenzione il disco tutto quello che leggi vale nei giorni festivi oggi in italia è un giorno festivo e qua ripetiamo e c'è la solita difficoltà non per me per me chiara non è stato questo l'errore il giorno feriale il giorno festivo il giorno feriale non è quello delle ferie è quello lavorativo in italia il giorno feriale il giorno lavorativo il giorno festivo è il giorno della festa è la domenica tutte le domeniche sono giorni festivi è il natale la pasqua è il ferragosto oggi è ferragosto ancora per qualche minuto è ferragosto quindi il disco orario vale solo nei giorni festivi io ho interpretato quel cartello nel suo significato opposto sbagliato quindi ho visto la croce ho detto a benissimo quindi quegli orari non valgono nei giorni festivi ma perché io ragazzo di campagna ragazzo soprattutto ragazzo di campagna che non mi sposto mai dal mio paesino ecco io interpreto io sono abituato alle zone a parcheggio con il disco orario sono abituato all'esatto opposto cioè il disco orario vale nei giorni feriali quelli lavorativi di domenica non vale di domenica non ci sono limitazioni è possibile parcheggiare senza disco orario però i simboli sono diversi c'è il simbolo del martelletto il martello gli strumenti di lavoro e che identificano i giorni i giorni feriali i giorni lavorativi quindi io sono abituato a non mettere il disco orario nei giorni festivi io sapevo che oggi era che oggi è un giorno festivo però però quando ho visto quel cartello ho applicato la mia normalità quella del paesino non turistico ho applicato la normalità nel contesto sbagliato ovvio nel luogo turistico la limitazione il disco orario serve nei giorni festivi perché in quei posti nei giorni festivi c'è più gente e quindi c'è l'esigenza di offrire di permettere a tante persone di poter parcheggiare quindi di non di non lasciare una macchina ferma per tutto il giorno in un posto proprio per garantire una circolazione maggiore un cambio in un cambio maggiore in quelle poche tante o poche aree di parcheggio che che ci sono da me nel mio paesino è il contrario c'è tanta gente nei giorni lavorativi di domenica non c'è nessuno quindi è possibile parcheggiare insomma tutto questo per dire che ho preso la multa è incredibile è incredibile ci sono rimasto male come l'ho presa ho preso la multa come l'ho presa cosa vuol dire come l'ho presa come ho reagito questo è un altro significato di di prendere posso dire me la sono presa mi sono arrabbiato me la sono presa pronomi combinati me la sono presa mi sono preso la multa questo sì ma in questo in questo senso in questo caso me la sono presa significa mi sono arrabbiato no perché il turista nella bolla nella bolla in cui vive il turista io non faccio mai il turista ma sono davvero un turista sì tecnicamente sono un turista anche se posso posso dire che per molte altre cose no non sono un turista però tecnicamente sono un turista e allora nella mia bolla dorata incantata del turista allora non me la sono presa sì mi sono arrabbiato un po mi ho avuto un moto di stizza un gesto di stizza di rabbia contro me stesso e contro Giulia perché adesso ti dico perché secondo me c'entra anche lei il l'ultima volta in cui ho usato il disco orario ho impostato l'orario sulle 5 e mezzo casualmente io ho parcheggiato le 5 e mezzo quindi era l'orario giusto il il vigile ha scritto poi io ho toccato il non posso verificare il vigile che mi ha messo la multa ha scritto il disco orario impostato alle ore 20 di sicuro io non imposto l'orario alle ore 20 perché perché alle ore 20 in nessun nessun posto è richiesto il disco orario quindi era impossibile era impossibile per me impostare quindi qualcuno ha toccato il disco orario e poi nel video mostrerò il disco orario il disco orario il mio disco orario è un oggetto di cartone c'è una ruota che gira sulle varie ore e c'è una freccia io giro la ruota con le ore e fermo la ruota all'ora giusta all'ora in cui parcheggio e faccio coincidere l'ora del parcheggio con la freccia con l'indicazione ovviamente alle 20 lo dico ovviamente perché io so che non è impossibile praticamente impossibile per i posti in cui vado trovare un'area parcheggio che alle 20 alle 8 di sera chiede il disco orario quindi di sicuro sono quasi sicuro che di non essere stato io a spostare sulle ore 20 l'orario però ho sbagliato io l'errore mio mi prendo la mia responsabilità altro altro uso del verbo prendere quindi mi assumo mi assumo tutta la responsabilità e adesso ti leggo nel pensiero ti leggo nel pensiero non ho detto una cosa la multa di quanto è la multa non te lo dico no te lo dico di quanto è la multa solo qua sorridente che scherzo che rido anche perché fortunatamente la multa è bassa certo sarebbe stato meglio non prendere la multa però pensavo peggio è la prima multa di questo tipo che prendo in tutta la mia in 30 anni che che guido e la multa è di 42 euro ma c'è lo sconto penso che anche nel tuo paese ci sia questa cosa c'è lo sconto se si paga nei primi cinque giorni entro il quinto giorno c'è lo sconto del 30 per cento quindi io pagherò 29 euro di multa e vabbè caro comune di iseo e vabbè colpa mia è ho sbagliato ho sbagliato è stata una distrazione una dimenticanza che poi ecco l'altra cosa l'altro errore io di solito metto il disco orario sempre anche quando non è richiesto cioè nel dubbio dico ma ci sarà il disco orario qua o non ci sarà e metto il disco orario però ancora una volta nella bolla distratta del turista nella gioia di aver trovato parcheggio mi sembrava ecco di solito un parcheggio nelle zone blu e dico eh vabbè insomma pago quello che c'è da pagare nelle zone blu sperando che non di non leggere le cose come free flow come a porto ceresio ti ricordo ho fatto un video cerca free flow free flow porto ceresio un italiano vero su google e troverai lo metto anche in descrizione qua se se lo trovo allora e per una volta ho trovato avevo trovato posto in un parcheggio con la striscia bianca quindi gratuito non mi sembrava vero infatti ho pagato lo stesso ho pagato di più cosa devo dire ancora una volta dico e vabbè cosa dobbiamo fare ho arricchito il comune di iseo ho arricchito il comune non ancora non ancora pagato però pagherò pagherò entro cinque giorni così così pago e per lo sconto e cosa devo fare non mi sono accorto ci ho pensato tanto ma perché mi ha dato la multa ma no ma non era un giorno oggi un giorno festivo ci ho messo un po e ci ho messo un po i riflessi sono molto lenti molto molto lenti ci ho pensato ci ho pensato per due tre minuti sono anche tornato indietro per leggere il cartello ma no ma certo ma oggi mamma mia è andata così è andata così come si dice scherzando cioè mi è venuto in mente in questo momento mi sono guadagnato la giornata ecco mi sono guadagnato la giornata io guadagno i soldi quando per il mio lavoro per il mio lavoro ricevo dei soldi quello è il guadagno io mi guadagno la giornata in senso scherzoso ironico mi sono guadagnato la giornata significa l'esatto opposto l'italiano è già complicato di suo quando poi ti spiego che si dice una cosa per intendere l'esatto opposto tu dirai ma no ma allora è troppo mi sono guadagnato la giornata tu puoi dire questa frase quando hai perso dei soldi quando hai preso una multa quando rompi qualcosa e devi sostituire quella cosa ecco mi sono guadagnato la giornata e va bene lo dico con il sorriso sulle labbra però non tutto il male viene per nuocere non tutto il male viene per nuocere adesso mi sento obbligato moralmente a iniziare i video sul sul codice della strada quindi è stato un richiamo un richiamo forte ecco avrei preferito altri tipi di richiamo però comunque è un richiamo quindi con questo con il richiamo della multa per esempio già sono contento perché abbiamo fatto una una chiacchierata a distanza perché tu adesso mi stai ascoltando ma mi risponderai e quindi abbiamo iniziato a chiacchierare su questa cosa e poi ci saranno dei video quando ma è non proprio subito perché qua è tutto bello tutto fantastico non vorrei tornare mai ma non c'è il wifi e tu non puoi capire anzi sì tu mi capirai non c'è il wifi una vita senza wifi è una vita è una vita a suo modem molto difficile al suo modem apprezza fa l'applauso per la battuta ho inventato la battuta a modem mio avrei bisogno di carezze anch'io fammi la battuta no dai modo modem dai no niente non ti è piaciuta e va bene cosa devo fare se non ti è piaciuta non ti è piaciuta allora non mi resta che dirti la solita cosa ci vediamo ci sentiamo ci scriviamo ci leggiamo di qui di là dappertutto insomma stiamo sempre insieme e se stiamo insieme ci sarà un perché ciao